Come sapete ogni volta che si affronta una campagna si parte da un'idea creativa. L'idea creativa questa volta ci è venuta veramente facile perché nel brainstorm iniziale che abbiamo fatto con tutti i nostri colleghi siamo partiti dall'esperienza che noi viviamo tutti i giorni della nostra vita. Quindi portiamo i nostri bambini in classe dove ci sono tante altre etnie e i nostri bambini la vivono in maniera assolutamente normale quindi più che altro loro evidenziano la persona che è bionda o che ha i capelli svicci o i capelli lisci ma l'etnia per loro non sanno neanche cosa sia. Siamo confrontati con tanti stereotipi però la cosa che ci ha sorpreso è stata la positività perché questi stereotipi non sono vissuti dai bambini per cui anche noi ci siamo trovati in maniera divertente ad affrontare certe frasi che tutti noi diciamo durante la giornata ma che in realtà per gli altri non hanno un valore vero per cui è stato divertente affrontare questo tema con la positività. Grazie a tutti!